12 12 12 13 14 15 16 17 17 18 ого 20 21 20 20 21 21 east 22 21 22 22 I, A, BAM, BAM. Ancora, TUM, BAM, BAM. Perfetto. Chi tiene colpidore deve dare un po' presa percorsa verso di lui. Non ci deve rubare, è un muro, tanto meno questo. Poi, accorgimento importante. Lui non può partire quando vuole. Se avete aspettato colpidore, non so, io devo prenderlo a lui, lui deve stare dietro a me. Sam, una cosa molto importante, se no tanto si fa male. Chi tiene colpidore, non è che al ultimo momento, uo, aspetta per il disposto di mettere qui dalla legna, perché se lo piglia al ginocchio, idem per i uomini, non è che cosa uo, aspetta, uo, questo. Volevo fare così, non si può fare. Quindi, lui deve aspettare a me, quando vede che c'è, non subito, ma quando c'è la certezza, lui tira. TUM! Questo è un avantiamento importante, perché? Perché faccio lo sviluppo della precisione e della forza, anche se si vuoi, più curiosi non si può tirare tutte 30-40. I pugni si, i pugni si può tirare. Poi, sento il contatto. In teoria di te lo stesso non posso fare determinato sulla persona. Ancora. TUM! Ehi, per esempio, se tu lo pigi ce la c'è, io vengo male. Quindi, ma io devo presa, tu devi cercare oggi, c'è anche i cecchetti, per fare il possibile. PAM! Ecco. E qui l'altra. PAM! Poi arriva di gamba, e si fa di là. TUM! PAM! 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 E stasca, 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 stasca. PAM! Ehi! PAM! 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 Uh! E qui io devo sentire, la parte più di lato più di più, ecco, più di più di lato più di più, ecco, qui io devo alzare, devo sentire questo. l'importante l'ho qui uno due bravo check bravo bene poi a un milano viene così piano il calcio in velocità il calcio è in realtà eh questo va bene anche per le aree se il combattimento va per le lute e finisci la tua pezzo ok laterale pugno pugno bam bam scioltezza cercare di non funzionare energia più più del tutto perché se io sto attenzione pulso energia qui è per relax relax tum pam eh vede tum pam tutto atteso vede tutto io pulso energia dopo metti su con un'altra pezza di piano e tum pam pam quindi tum non c'è questo non c'è questo è questo come metto in taccia il minimo possiamo avessi successo qui quasi pam questo contro pam allo piede lui ora può lo fare e adesso un po' di impostamento indietro allo piede pam ora qui se il calcio fosse volte forse probabilmente almeno la c'è messa la linea di lui è questo di qua spostarsi in là da qui bomba questo praticamente tum pam pam ok quindi io creo su pam no è vero da indietro pam posso poi da come se questo fai di oggi tira il calcio tira il calcio tira il calcio tira il calcio un po' voluto dalla persona per poter fattore esercizi uno è troppo anticipato la parata fare troppo fino a terra oltre no anche il portamento pam pam tum pam io io la vado a cercare un po' la distanza giusta quarto dietro pum altro circolato altro vedi pam 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 chiudo qui vedi che ti vede ok vediamo qui ah pam sì però lo spostamente vedete così pam basta solo un po' non importa che ti vede la fila qui pam troppo in giù pam guardo pam e calcio uno come via solo pom ancora due pom pom io mi devo dire che so tengo un collino ai guanti non è che tanto così no questo deve essere piegato questo non così perché così mi obbligo da solo no se lo viene al puño è pom di guanco peso pom così che ho visto allora è la desentegare ancora pum pum questo pom pum ancora pum pum in ora pum pam e non è chiuso lui mi ha fatto la cacca così perché io ho questo lui non mi prende lui non mi prende ok proviamo chiudi pam io ho il proprio pum non succede niente questo ha lo senso per lascia andato la mia spalla va qui va mi succede niente ok la spalla va qui si troviamo io favo il sforzo minimo perché si va piano piano è l'attaccante che fa e io che mi trovo bene ora pum questo pam è dato però devo fare attenzione devo scendere le mani su a volte le mani su a volte fa questo non è facile un esempio anche per lui fa questo lascia andare la spalla va qua un po' più qua del nodo della cittura mentre le mani fanno questo va lui va giù lo sforzo minimo io ci ho buttato il peso non c'è bisogno neanche di fare la trazione ok ecco non c'è si provoca ma fatto piano piano deve essere un sulplase una cresce vedo andando qui forse ti da un po' ma è la spalla che lo buttate ci cerca di andare in pa' correttamente non c'è non c'è